Pizzi lo dica chiaramente se vuole continuare la sua avventura appoggiato dal centrodestra o se sta utilizzando questo tema dove c'è una sensibilità altissima a livello strumentale solo a fini elettorali, a fini di campagna elettorale e quindi ha deciso di andare da solo con la sua lista civica. Vogliamo assolutamente questo chiarimento. Vogliamo rispetto per la Lega perché Domodossola oggi è una grande città perché c'è stato negli anni 90 un monocolore leghista a guida a Angius, c'è stato un buon governo marinello che ha ribaltato la città con il borgo della cultura e quindi c'è un passato importante per quanto riguarda la Lega di dati oggettivi e di fatti per la città di Domodossola. Il non vernire a Stresa non è un domani all'evento della consegna delle bandiere, non è uno sfregio a me, alla regione Piemonte, ma uno sfregio in primis alla città di Stresa perché è stato fatto a Stresa per il grande valore morale, umano e il valore di solidarietà che vogliamo dare a Stresa nella tragedia e nella tragedia che purtroppo è avvenuta.